benvenuti alla peri teams ciao silvio oggi torna con noi grandissimo michele senza lari ciao michele ciao michele ciao erene ciao silvio grazie come sempre per l'invito è un piacere nostro come sempre michele con te parliamo oggi di un tema sempre sulla cresta dell'onda che è la sicurezza nello specifico la sicurezza degli end point per andare ancora più nel dettaglio microsoft di offender suo end point un prodotto che ormai come dire obbligatorio per qualsiasi tipo di azienda e che permette di mettere in sicurezza veramente tutto lo stack dei vari dispositivi indipendentemente dal tipo di sistema operativo però è una piattaforma che esprime il massimo del suo potenziale se abbinata con microsoft intune quindi con te oggi vogliamo proprio analizzare questo se ci spieghi perché defender quali sono le novità che poi sono un po arrivate e poi perché il binomio defender for end point e microsoft intune diventa vincente per tutte le aziende però prima di cominciare irene prendiamo il nostro meme cocktail e enjoy a per i teams a te la parola michele grazie alla vostra salute allora diciamo che abbiamo spesso parlato in passato della protezione dell'identità umane e non e in questo nuovo modo di lavorare degli ultimi anni che ha portato il modern workplace e la possibilità di lavorare da remoto fa sì che ovviamente non debbano essere autenticate solo le persone umane e non l'identità umane non ma anche ovviamente i device che utilizziamo con vari sistemi operativi con varie forme per accedere ovviamente alle nostre la nostra infrastruttura che molto spesso è ibrida qualche volta è anche ovviamente cloud olli e quindi dobbiamo implementare diciamo un insieme di funzionalità per identificare correttamente i dispositivi e quindi creare quel rapporto corretto tra il dispositivo ed azure active directory sappiamo che i dispositivi possono essere registered possono essere joined direttamente ad azure ad piuttosto che hybrid joined quindi con una registrazione sia nel mondo on prem di active directory che nel mondo cloud di azure ad ma poi è importante ovviamente governare il dispositivo ovunque si trovi e soprattutto proteggerlo i due strumenti che utilizziamo in collaborazione ovviamente sempre con azure active directory o entra ed perché dobbiamo usare ovviamente il termine corretto che ormai entra ed i sono ovviamente intune quindi quello che per un certo momento sto chiamato micstone point manager ma adesso si chiama intune per governarlo e parzialmente proteggerlo ma la protezione completa l'abbiamo quando abbiamo anche il micstone defender for a point ovviamente intune permette di di governare il dispositivo andando a passatemi il termine modellare sia l'ambiente utente che l'ambiente device nel suo utilizzo quindi inibirò permettere certe funzionalità del sistema operativo l'utente piuttosto che configurare per esempio una wifi un vpn a un a un dispositivo ma mi permette di implementare differenti funzionalità che sono all'interno del sistema operativo quindi intune possiamo governare diverse tipologie dispositivi che possono essere i windows client quindi windows 10 windows 11 ma possiamo anche governare piattaforme di terze parti come mac os come i classici mobile device come ios intune ma recentemente anche qualche distribuzione di linux piuttosto che i chromebook ok anche se siamo ovviamente agli albori ovviamente su questi dispositivi dobbiamo anche implementare le funzionalità che sono native di sicurezza all'interno di questi sistemi operativi ovviamente stando in casa in casa diciamo microsoft il sistema windows 10 e windows 11 ha diverse funzionalità di sicurezza che possono andare da quelli elementari come diciamo il firewall o l'antivirus elementare nel senso che sono presenti da molto ma molto tempo ma magari non sempre governati correttamente a funzionalità invece più avanzate come il bitlocker attack surface redaction piuttosto che l'application control e via dicendo ma la protezione diciamo ancor più diciamo approfondita lo facciamo come diceva silvio prima con con defender foreign point perché defende foreign point è quel io aggiungo quella parte in più che aggiungiamo all'antivirus e molto spesso dovrebbe essere defende l'antivirus ma potrebbe essere anche un antivirus di terze parti per implementare funzionalità che possono semplicemente riguardare o diciamo l'analisi delle attività che avvengono sul dispositivo quindi l'utilizzo di file che non si erano mai visti piuttosto che l'esecuzione di processi che vengono analizzati grazie al cloud e alle funzionalità di intelligenza artificiale per vedere se magari non portano a qualche attività malevola ma il defender foreign poi porta anche a funzionalità come l'empoint detect e respond quindi possibilità di rilevare dell'attività malevole sul su un endpoint e quindi rispondere poi a questa attività malevole ma mi permette di fare un'altra cosa molto importante che molto spesso viene tralasciata è quella del vulnerability assessment cioè comprendere sui vari dispositivi quali software presentano delle vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate ovviamente da utenti malevoli e il defender foreign point mi permette di evidenziare vulnerabilità sia dei sistemi microsoft ma anche di sistemi di terze parti affinché poi grazie in tune magari io posso rilasciare un aggiornamento di un software piuttosto che una patch di un software e quindi mantenere un ambiente diciamo in qualche modo ordinato governato correttamente e sicuro quindi è un'abbinata di prodotti che si espande anche ancor di più perché a volte nasce in alcuni ambienti la necessità di implementare alcune funzionalità di sicurezza pur non avendo in tune cioè o meglio scusate pur non onboardando in tune il device e il defender foreign point fa proprio da collettore per alcune funzionalità di sicurezza per far sì che anche un device che non è un bordato in in tune grazie al defender foreign point possa essere governato per alcune funzionalità di sicurezza tramite tramite intune stesso quindi direi che è un diciamo un binomio che ormai è fondamentale nella realtà di oggigiorno certo tra l'altro tu l'hai citato prima il tema ai nominando le varie delle varie piattaforme hai tirato fuori iOS Android due soluzioni due sistemi operativi che moltissime aziende al giorno d'oggi non proteggono nel senso che si si dà un po per scontato che il telefonino sia quasi inviolabile che sì vabbè io ho dei miei dati non scarico applicazioni strane cosa vuoi che succeda eppure molti rischi al giorno d'oggi arrivano proprio da lì siti web visitati piuttosto che applicazioni scaricate dal dallo store qui entra molto in gioco la possibilità nel caso di di android di avere un profilo separato tra quello business e quello personale e nel caso invece di ios che è un po più integrato avere un certo livello di protezione più più avanzata che poi magari se vogliamo continuare il filotto rientra anche nel mondo mech quest'altro come dire soggetto mitologico che si crede inattaccabile inviolabile ma che in verità anche lui è veramente sempre esposto ad attacchi quindi uno strumento poi come defender foreign point e in tune dall'altra parte diventano ancora più rafforzanti per per la protezione stessa assolutamente sì perché giustamente con quello che ormai chiamiamo remote working lo smart working molto spesso il dispositivo principale che utilizziamo per accedere all'infrastruttura è proprio il nostro strumento mobile preferito quindi come dicevi tu l'android della us quindi sono quelle piattaforme che forse ancor di più non dovrebbero essere protette da possibili diciamo inconvenienti o attività malevole allora in tune permette di creare quattro configurazioni diverse del del dispositivo cioè permette di fare in modo che per esempio in quello che viene chiamato il bring your own device quindi l'utente che si acquista per conto proprio lo smartphone android e vuole accedere in qualche modo l'azienda noi possiamo fare in modo che con la configurazione corretta sul dispositivo come dicevi tu vengano create due bolle la bolla personale e la bolla aziendale con due ambienti che convivono sullo stesso smartphone o tablet anche e però sono due mondi diversi dove i dati in qualche modo non possono essere scambiati per motivi di sicurezza le applicazioni non possono accedere all'altro mondo ci sono configurazioni un po più stringenti che magari richiedono che il device venga considerato strettamente di proprietà dell'azienda sono chiamate company owned nel quale dispositivo viene inizializzato dall'azienda e viene completamente governato dall'azienda stessa in alcuni casi in una maniera magari molto restrittiva quindi scegliendo anche le applicazioni che possono essere installate su quel dispositivo in altri ambienti un pochettino più blando lasciando un po più di libertà agli utenti sicuramente nel mondo iOS o nel mondo Apple chiamiamo lo mondo Apple correttamente ci ricadono l'iPhone l'iPad e il Mac OS qui ci troviamo di fronte a dover in alcuni casi andare a interagire con strumenti proprietari di Apple come l'Apple Business Manager quindi alcune configurazioni richiedono che lo smartphone, il tablet o il Mac OS sia inizializzato tramite il portale di Apple Business Manager o onboardato tramite quello però una volta che poi i dispositivi sono censiti all'interno di Intune posso governare l'area aziendale che sia solo parziale o totale in una modalità più approfondita come per esempio in un Mac OS posso decidere che venga attivato il corrispettivo BitLocker che è il file vault di Apple e sicuramente Defender Foreign Point è stato diciamo ampliato da Microsoft per poter coprire anche questo tipo di dispositivi quindi Defender Foreign Point nasce inizialmente con l'ambiente Microsoft e forse in questo momento ovviamente il maggior numero di funzionalità è fruibile sotto Microsoft ma pian piano Microsoft sta trasferendo queste funzionalità come di Web Protection, Network Protection dicendo anche a dispositivi come Android, iOS e Mac OS e l'altra cosa che mi hai dato lo spunto giusto per introdurre è che adesso una richiesta che è stato spesso fatto nell'ambiente Mac OS è che un utente inizialmente potesse collegarsi sul proprio Mac OS con le credenziali di Azure Active Directory che fino a qualche giorno fa non era possibile se non con strumenti di terze parti invece adesso con un meccanismo ancora un po' a struso però io posso permettere ad un utente di utilizzare le sue credenziali che usa in Microsoft 365 o in Office per loggarsi anche su un Mac OS e quindi diciamo Microsoft va sempre più incontro ovviamente anche alle piattaforme che non sono di sua proprietà sempre nell'ottica di governarle e proteggerle ovviamente tra l'altro vorrei sottolineare su questo punto che il problema non è Microsoft ma il problema è Apple nel senso che è Mac OS che non supporta questo tipo di autenticazione sono dietro tantissimi nemici con questa affermazione che io condivido in modalità offline ma online devo ogni tanto tenere diciamo la plomb di essere non diremo neanche che su alcune distro di Linux questa funzione è disponibile già da mesi 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 eh va bene esatto però vabbè diciamo che la convergenza dell'autenticazione diciamo meglio tardi che mai piuttosto che meglio tardi che mai esatto poi ci arriviamo e lo stiamo svolgendo bene dopo esserci fatti nemici tutti quanti gli utenti Apple con questa chiusura di eventi direi che il nostro tempo a disposizione il portato è terminato grazie Irene, grazie Silvia, grazie Michele, appuntamento al prossimo video ciao grazie, ciao